Dal 23 al 27 novembre torna Padova Art & Choc, il tour dei cioccolatieri dedicato al cioccolato artigianale. La grande festa itinerante, giunta alla quattordicesima edizione, inonderà di dolcezza le centralissime via Cavour, via Santa Lucia e piazza Garibaldi. Gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato, oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno infatti trovare le più golose specialità regionali e non solo, assieme a opere d'arte uniche in cioccolato. Una vera e propria festa per gli occhi e per il palato. La caratteristica del cioccolato è che contiene un ormone, che è l'ormone della felicità. Tante volte quando siamo stanchi o quando abbiamo bisogno anche di tirarci su di morale, mangiamo un pezzo di cioccolato e sembra che questo cioccolato ci risollevi. Non è una sensazione, è una pura verità perché appunto il cioccolato contiene questo ormone e quindi rinvigorisce il nostro animo. Per cui oggi la città di Padova si prende anche cura dei propri cittadini, si prende cura dei visitatori che vengono a questa manifestazione, donando loro un pizzico di felicità e anche un pizzico di benessere, visto che la manifestazione è molto bella e molto partecipata. Il modo con il quale anticipiamo e portiamo l'inizio delle iniziative natalizie in città è un modo molto dolce per farlo. Sono tantissimi cittadini che frequentano questi stand in questi giorni. Questo ci permette di aumentare l'attrattività del centro storico, dargli vivacità, considerando che tutte queste posizioni degli stand sono anche state concordate con i negozi perché l'idea è quella di un'alleanza tra manifestazioni e negozi in sede fissa per far crescere l'attrattività della città e fare in modo che ci sia un grande avvio delle iniziative natalizie che confidiamo possano rappresentare un momento di grande slancio per la città di Padova. Grazie